Parliamo di una persona che lavorava dalla mattina alla sera e ad oggi non riusciamo a capire perché c'è stata questa tragedia. Perché c'è stata questa tragedia? È la domanda che si pongono al termine dell'udienza di convalida del fermo i legali di Taolan Malai, Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio. Il 45enne panettiere albanese ha confermato le dichiarazioni spontanee già fornite al PM domenica pomeriggio, in cui vi era sostanzialmente stata la confessione del duplice omicidio. Il signor Malai Taolan alias Andrea ha confermato quanto dichiarato domenica pomeriggio dinanzi al PM, ha avuto un crollo psicologico, sta prendendo consapevolezza della tragedia immane che è accaduta qualche giorno fa e sinceramente siamo anche abbastanza preoccupati per le sue condizioni di salute perché siamo certi che la polizia penitenziaria, anche su disposizione specifica della procura, che la polizia vigilirà sulla sua persona perché potrebbe anche compiere qualche atto autolesionistico perché più tempo passa e più inizia a prendere consapevolezza dell'accaduto. Depositate oggi le immagini di tre telecamere presenti nell'abitazione di Torre Maggiore in cui viveva la famiglia Malai. Telecamere che chiarirebbero come l'altro figlio di 5 anni non sia stato toccato dall'uomo ma soprattutto non fosse nascosto. Noi abbiamo visto un video, escludiamo subito una cosa, si diceva che si fosse avventato anche contro il bambino, escludiamo assolutamente, il bambino non è stato toccato, non c'è stato nessun... Era nascosto? Assolutamente no, assolutamente no, non possiamo precisare altro, però vi dico che per quanto riguarda il bambino dobbiamo escludere quello che si è detto fino ad oggi. Il bambino è stato oggetto di nessun tipo di aggressione. Oggi sono stati depositati dalla procura tre video ulteriori, però su questi... Ulteriori a quello che lui ha registrato subito dopo? Sempre registrati da lui? Dalle telecamere che c'erano nell'appartamento e sono stati abbastanza difficili, anche se sotto il profilo giuridico potrebbero fornire la necessità di compiere degli approfondimenti.